Ben ritrovati a Orobia Extra, parliamo della spedizione sull'Elbrus, ce l'aveva presentata Denis Orupco che è stato un po' il creatore, il ideatore di questo progetto. Sono tornati i nostri alpinisti Mario Kurnis, decano dell'alpinismo bergamasco e un giovane bergamasco Matteo Gallizioli. Mario, non sei riuscito ad arrivare in cima questa volta? C'è sempre una montagna che mi ferma, non è la prima veramente, non sono riuscito anche perché se devo guardare un po' la carta entità dovevo stare a casa, però mi è capitato proprio di prendere un colpo della strega all'inizio del cammino, proprio il primo giorno e il secondo, ma il primo giorno avevamo camminato solo due ore, io non sapendo cosa mi era successo abbassandovi a dargli un pezzo di pane a un cane e praticamente io ho avuto quel dolore lì per quasi tutto il periodo della spedizione, non così forte ma quel giorno lì ho sofferto, penso di non aver mai sofferto così tanto in montagna. e ho detto se riesco ad arrivare su, siamo ripartiti due, cinque, siamo andati tre, otto e per fortuna che c'era lui vicino che mi dava una mano, mi teneva su un po' morale, sono arrivato su credendo che mi passassi, ho fatto ancora qualche giri sulla montagna però ho capito che era meglio che stia calmo, prima cosa per non far succedere niente ai miei compagni e seconda cosa per me stesso perché volevo sapere cosa mi era successo del preciso una cosa così, invece al ritorno ho capito che mi ero quasi sistemato tutto e poi sono andato dal dottore, mi ha detto che è stato il colpo della strega e comunque mi ha dato un bel colpo, comunque per me è stato un bel giro, bellissimo sono contenti che, meno io e un altro alpinista russo, non siamo saliti sulla vetta però tutti i miei compagni sono andati su e con me, io ho visto montagne stupende sono contento che noi siamo arrivati su, insomma, ecco. Matteo per te è stata una grande esperienza? Sì, sì, sicuramente, sia per la montagna che per la stagione che per il gruppo erano tutti alpinisti di grandi capacità, togliendo Dennis che è un fuoriclasse e anche grazie alla presenza di Mario mi sono sentito un po' più vicino a casa e ho potuto anche imparare tanto, tanto, tante piccole trucchi, piccole occasioni di riposo che Mario mi ha insegnato. È stata una bella esperienza, fredda ma bella, molto bella. Eravate molti giovani, provenienti anche da Polonia e da Russia? Sì, eravamo due italiani, io e Mario, un polacco molto giovane e tutti gli altri sette russi più o meno giovani, comunque sì, un gruppo abbastanza giovane, con molta esperienza anche. Tu come ti sei approcciato all'alpinismo? Come è nata questa passione? I miei genitori sono sempre andati in montagna sia da giovani che anche adesso che sono un po' meno giovani diciamo. Ho avuto degli anni negli scout, ho passato anni negli scout quindi contatto con la natura così e da lì, dal contatto col bosco e il vivere nel bosco sono passato a farmi vedere cosa c'è oltre il bosco e quindi la logica conseguenza degli scout è stato iscriversi al cagli albino e vivere la montagna diciamo in alta quota. L'Elbrus com'era? A parte il grande freddo. È una bella montagna, secondo me sottostimata, nel senso che d'estate tanti la reputano una gita facile. Può darsi ma secondo me non sarà mai facile una montagna del genere anche perché a quelle quote basta poco che veramente cambia le condizioni. Noi l'abbiamo fatta in inverno, è un motivo d'orgoglio in più sicuramente. Mario, ancora voglia di andare in montagna? Non ci ferma il cane per sempre? Tanto va, ci vuole un elefante. No, io questa montagna qui non è che mi interessasse tanto. Però era un po' di tempo che io non andavo più in quota e ho in mente un progetto molto più impegnativo di questo. Però questa era la prova per vedere se io avevo ancora quella grinta e tutto. E allora ho detto vado in quella montagna lì perché quella che ho in testa è molto più difficile, è molto più alta, non è un 8000. E allora ho detto vado, se mi trovo bene e se il mio corpo resiste ancora, volevo quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, verso marzo-aprile volevo andare a fare questa grande montagna, una montagna difficilissima con tre o quattro amici forti. e allora praticamente adesso ci penso su un po'. Il medico mi ha detto che non c'è problemi, però non vorrei che mi capitasse una cosa così su difficoltà molto più alte. E lui mi ha detto di no e allora cercherò di stare allenato ancora e penso di organizzarmi. Un po' di amici forti, ne conosco parecchi di due amici forti. No, faccio dei nomi, andiamo in quattro in massimo. Matteo, continuerà anche per te? Io spero in una bella stagione sci alpinistica, prima cosa, perché sono un amante della neve e dello sci alpinismo. E questo programma teoricamente continuerà anche per me, la volontà c'è sia mia che di Dennis, vedremo di organizzarci questa estate, ci sono delle montagne, degli obiettivi, diciamo, interessanti, non difficili tecnicamente perché giustamente il mio livello è di alpinismo base, diciamo, però interessanti come quota. L'obiettivo finale è anche l'Himalaya, ci diceva Dennis. Il sogno finale di Malaya, dopo lo vedremo, sì. Per lui è un obiettivo molto realizzabile, per me è un sogno, il mio sogno è appunto partecipare a una spedizione con Dennis, possibilmente in Malaya, su un 8000 sarebbe il top della carriera alpinistica di Matteo, mettiamola così. Il primo passo è stato buono. Ottimo direi, ottimo, ottimo, ottimo il primo passo. Mentre con Mario aspettiamo allora di vedere che cosa succederà in primavera. Sì, cioè adesso io, già due giorni che sono tornato, sono andato sul podone sopra la mia baita, ho preso circa 10 kg, sono andato su, sono tornato, ho sentito più niente. Adesso ho un appuntamento fra 7-8 giorni con quel medico lì e così per vedere se c'è stato qualcosa lì fuori, però se c'è niente l'organismo. In bocca al lupo a entrambi, grazie per essere stati con noi. Anche se resterò al campo base fa niente. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Alla prossima.